con il passare degli anni ho imparato che le persone si commentano e valutano da sole sono in un momento della mia vita che non mi importa più nulla io sono questa chi vuole esserci nella mia vita ne fa parte il resto arrivederci non ho più tempo ne voglia di pensare e di discutere con chi non lo merita che belle le persone con cui riesci ad essere te stesso quello a cui non importa chi sembri conta solo chi sei grazie mille per restare con Justin Ewell ci vediamo alla prossima con un nuovo video ciao